La prima roba è il mangiare! Fa schifo! Fa schifo! C'è tutti questi brodini con le palline dentro! Poi i crauti! Crauti dappertutto! Eh, ma mangiali te la mattina e la sera! Sta tre giorni a Monaco! Insomma, la seconda roba è tutti biondi! Tutti! Anche gli uomini! Mi pare essere rassisti, ma non sta mica bene! E' la birra lì, eh! Ecco, forse la ciccolata! E' la prima roba! Tutti biondi! Tutti! Ma no! Quelli è in Svesa! Ingagnano la ciccolata! Dimmi te cosa c'è di buona in Germania adesso! Cilino! Vedo! Mercedes! Feier! Ah! In Germania adesso E l'awmento dasà! и